E' stata ritrovata sotto il corpo di una delle due sorelle la soletta della scarpa che ha permesso agli investigatori di risalire all'identità del presunto omicida di Lucia e Filippa Mogavero, uccise a Ramacca nel giorno di Santa Lucia. Nella probabile colluttazione la scarpa destra di Gianluca Modica, trentenne del luogo, già arrestato in precedenza tre volte, sarebbe volata via. Nella concitazione e prima di abbandonare la casa il giovane avrebbe calzato solo la scarpa e non la soletta. Accessorio ritrovato poi dai carabinieri che, coordinati dalla procura di Caltagirone, indagano su quella che il PM ha definito una mattanza. Secondo quanto ricostruito, le due sorelle di 70 e 79 anni sono state colpite in momenti diversi con un coltello che non è stato ancora ritrovato. Il giovane si sarebbe introdotto nell'abitazione attraverso il tetto da una casa attigua. La prima a imbattersi nell'uomo è Filippa al terzo piano. Segue una colluttazione. La donna viene legata ad una sedia. Nel frattempo rientra in casa Lucia con un vassoio di dolci comprati per festeggiare l'onomastico. L'uomo scende e chiede i soldi, 200 euro, necessari per saldare un debito. La donna dà il denaro e gli getta contro anche un mazzo di chiavi, intimandogli che tanto lo conosceva di vista perché era un frequentatore della piazza e lo avrebbe denunciato. È stato allora, secondo il racconto del affermato, ancora da verificare, che la donna avrebbe presso un coltello e l'uomo sostiene si sarebbe difeso uccidendola, sgozzandola. Poi sarebbe salito al piano di sopra e a quel punto uccide con una coltellata alla gola l'altra sorella perché teme di essere denunciato. Modica, è stato detto in conferenza stampa, sarebbe noto anche per l'uso di stupefacenti ma al momento non ci sono riscontri sul fatto che possa averne fatto uso nel giorno che, a Ramacca, tutti ricorderanno come il massacro di Santa Lucia. Grazie a tutti.